Sarà convocato entro fine ottobre il rinnovato Consiglio Metropolitano di Firenze, guidato dalla Sindaca del Capoluogo e dunque d'Ufficio anche dell'Ente Metropolitano Sara Funaro. Le elezioni di secondo livello per eleggere i 18 nuovi consiglieri si sono tenute domenica 6 ottobre in quattro seggi disseminati sul territorio, una dei quali in Palazzo Medici Riccardi, sede dell'Assemblea. Hanno partecipato alle operazioni di voto sindaci, sindache, consiglieri e consigliere dei 41 comuni della metro città. Ogni comune ha uno specifico peso nel risultato definitivo delle elezioni. Ecco quindi i risultati definitivi delle elezioni anche in conformità al peso ponderato. Per la lista numero 1, Uniti per la città metropolitana, un seggio di Anacapo. Per la lista numero 2, Partito Democratico, 11 seggi, Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli, Claudia Sereni, sindaca di Scandicci, David Baroncelli, sindaco di Barberino Tavarnelle, Emma Donnini, sindaca di Fucecchio, Sara Di Maio, sindaca di Barberino del Mugello, e ancora Massimo Fratini, Nicola Armentano, Carlo Boni, sindaco di Pontassieve, Michela Monaco, Beatrice Barbieri e Alessandra Innocenti. Per la lista numero 3, Territori Beni Comuni, un seggio, Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio. Per la lista numero 4, per il cambiamento, quattro seggi, Gianni Vinattieri, Claudio Gemelli, Alessandro Scipioni e Vittorio Picchianti. Per la lista numero 5, Territori al centro, un seggio, Francesco Casini. Il Consiglio metropolitano ha funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della città metropolitana di Firenze. Si affianca all'altro organo metropolitano, che è la Conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci e da tutte le sindache e dei comuni compresi nella città metropolitana, con poteri propositivi, consultivi e deliberativi. Il Consiglio si riunisce di norma mensilmente in Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi a Firenze.